oggi pane incocotte croccante fuori e morbidissimo dentro in una ciotola mescolate acqua farina lievito e sale coprite lasciate lievitare per un paio d'ore poi stendete l'impasto e richiudetelo su se stesso a libro se l'impasto è troppo appiccicoso potete inumidirvi leggermente le mani e usare un pizzico di farina lasciate riposare per mezz'ora e ripetete l'operazione per altre due volte riprendete l'impasto lo stendete un po di farina e lo richiudete a libro voilà così poi con il coppapasta cercate di dargli una forma sferica vedete che poi l'impasto inizia a diventare già più consistente e meno appiccicoso ora mettete l'impasto all'interno di una cocotte di ghisa con carta forno e se volete potete fare delle decorazioni coprite con il coperchio infornate a 250 gradi in forno statico per mezz'ora poi 10 minuti senza coperchio fatemi sapere